Il nostro aiutato Rossini, c'è ancora Nimir Il punto di Monza che porta il Vero Valley sul 5-3 Giannelli per Lucarelli, morbido sul muro, la rigioca Trento, direttamente Simone Giannelli Va a cercare Lucarelli, bravo in questa ricezione, poi arriva Nimir da terra praticamente Federici Free ball per Trento, Giannelli gioca con Podrashanin, ancora una ricezione di Federici Poi Zovarac non ne approfitta, arriva Micheletto, c'era ancora l'uscito Federici Ma questa volta era un corso terra, difficile per i suoi compagni Grazie a tutti